Salve a tutti, in questo video, in questa webinar di presentazione spiegheremo in maniera approfondita il piano marketing di Duolife. Questo piano marketing sta facendo un grandissimo rumore in tutta Italia perché è un piano marketing, ve lo dico per esperienza personale, che vi dà possibilità già nelle primissime qualifiche di raggiungere degli ottimi guadagni che adesso andremo a vedere step by step. Allora, intanto andiamo a vedere come poter iniziare ad essere comunque un membro del club Duolife. Allora, come vedete in questa slide ci sono quattro figure. Coloro che vogliono diventare clienti, solo clienti che acquisteranno comunque prodotti a prezzi di mercato, il cliente privilegiato che avrà una sfontistica da parte dell'azienda, oppure un club member che ha un'attività di consumatore con 250 punti di primo ordine o comunque nell'ordine nel periodo di calcolo dell'azienda, quindi sarà attivo con 250 punti e la persona che attiva da 250 punti a 499 ha diritto a due cose importanti. La prima è quella di partecipare al sistema del club, quindi potrà avere una sfontistica che dopo andremo a vedere che va dal 30 al 40%, e poi avrà una possibilità di guadagnare comunque sulle provvigioni, sulla struttura, ma che avrà comunque un guadagno del 50% comunque in meno in confronto a un'attività club member, come vedete, di 500 punti. L'attività club member da 500 punti vi dà diritto ad avere tutti i privilegi comunque aziendali, quindi bonus per la promozione, quindi dei bonus molto alti che dopo andremo a vedere, un programma comunque macchine e di viaggi, e poi ha comunque un guadagno diretto a pieno sul piano marketing di Duolife ed ha i prezzi comunque, diciamo a dei prezzi con la sfontistica che va dal 30 al 40%. Quindi questi sono i due modelli per poter iniziare comunque la propria attività di membro nel club. Ora andiamo a vedere i primi guadagni. Adesso scoprirete che il vantaggio per una persona ad essere attiva con 500 comunque punti, parliamo di 500 punti, pensate che un punto corrisponde in Duolife a 0,25 centesimi, quindi parliamo all'incirca di 500 punti, all'incirca di 120 euro, e quando parliamo di 250 punti significano all'incirca 60 barra 65 euro. Quindi essendo attivi con il proprio ordine per quattro mesi consecutivi, avrete diritto, e questo è un bonus veramente eccezionale, che è un bonus fedeltà, a dei prodotti omaggio Duolife. Mi spiego meglio. Se voi nei vostri quattro mesi sarete attivi con i vostri 500 punti, l'azienda al quarto mese vi riconoscerà 120 euro di prodotti gratis a vostra scelta. E non è solo per i primi quattro mesi, è per ogni quattro mesi. Quindi voi tre volte all'anno, essendo comunque attivi con i vostri 500 punti, avrete tre volte all'anno 120 euro di prodotti gratis a casa da parte Duolife. E la cosa più importante è che sono a vostra scelta. Se sarete attivi con 250 punti per questi quattro mesi, e per ogni quattro mesi l'azienda vi riconoscerà un comparativo in prodotti a 60-65 euro, a vostra scelta gratis, direttamente a casa. E questo bonus è veramente eccezionale, perché grazie a questi prodotti comunque gratis, che vi arriveranno, potrete fare comunque una sorta di promozione, quindi far conoscere o regalare comunque prodotti Duolife per creare nuovi partner, oppure avere un guadagno ancora più alto sulla distribuzione, perché avrete un guadagno pulito, perché ovviamente vi arriveranno prodotti gratis a casa, quindi avrete dei grandissimi guadagni ogni quattro mesi, ogni quattro mesi grazie a questo bonus. Ovviamente come vi ho detto già prima, avrete una scontistica che va dal 30 al 40%, quindi la seconda forma di guadagno è proprio la vendita diretta, quindi grazie alla scontistica che va dal 30 al 40% avrete un guadagno diretto se vorrete distribuire a tutti i vostri amici più vicini i prodotti, i prodotti della Duolife, oppure i vostri amici acquistando all'interno della vostra e-commerce personalizzata, perché una volta che voi avrete comunque fatto un primo ordine o di 250 o di 500 punti, l'azienda vi attiverà immediatamente un vostro sito personalizzato e le persone potranno, i vostri amici, conoscenti e tutto quel che sia, potranno acquistare all'interno comunque del sito e voi avrete comunque un guadagno diretto che va dal 30 al 40% su tutti gli acquisti che faranno i vostri amici. Terza forma di guadagno è sul bonus comunque primo ordine, quindi per ogni persona che vorrà far parte del club, quindi che farà un primo ordine di 250 o di 500 punti, voi avrete un guadagno diretto su ogni primo ordine di ogni persona che comunque si iscriverà con voi. Quindi questo sarà un altro guadagno diretto importantissimo. Pensate che se la persona fa un ordine di 250 punti, un primo ordine, avrete un guadagno di 12,50 euro su per giù è quello. Oppure se farà 500 punti, avrete un guadagno che va dai 20 ai 25 euro comunque di guadagno diretto ed immediato. Ora andiamo a vedere la quarta forma di guadagno. La quarta forma di guadagno è la struttura passiva con la regola della compressione. Questo è un bonus che posso dirvi dalla mia esperienza che mi ha fatto rimanere realmente a bocca aperta perché una volta che voi sarete attivi con i vostri 500 punti, avrete già 6 livelli al 3% su ogni comunque componente del vostro team. E come vedete qui i livelli, se facciamo un piccolo calcolo, il primo livello sono 3 persone, il secondo livello 9 persone, il terzo livello 27 persone, così via, fino ad arrivare al sesto livello, voi andrete a guadagnare questo 3%, diciamo possiamo anche dire all'infinito perché noi abbiamo una regola di compressione che fa ottimizzare al meglio i vostri guadagni. Cosa significa la regola della compressione? Che l'azienda, i vostri livelli, non saranno dei livelli perché sono posizionati nel sistema, ma l'azienda conteggerà solo ed esclusivamente livelli attivi. Quindi l'azienda vi calcola solo quelle persone che sono attive nel sistema per non farvi perdere un centesimo dei vostri guadagni. E pensate che solo con questo bonus, essendo attivi con 500 punti, potete guadagnare fino a 4100 euro. Solo con questo bonus. Ma la cosa che vi farà rimanere sbalorditi di questa presentazione è che ogni bonus che vi presenterò si cumula. Quindi ogni bonus del vostro lavoro che farete ogni mese si cumulano questi bonus e farà sì che vi renderete conto che questo piano marketing è veramente potente. Perché ogni bonus si cumula e poi vi accorgerete dopo un lavoro fatto comunque mensilmente che i guadagni sono veramente altissimi. Quinta forma di guadagno, carriera di provvigione crescente che va dal 6 al 27%. Qui scalando comunque determinate qualifiche che possono essere il team leader che sono 8000 punti che corrispondono a 2400 euro di fatturato fino ad arrivare al global president avrete una differenza sulle vostre comunque strutture. Quindi che va dal 6 fino al 26%. Quindi facciamo un piccolo esempio. Se voi siete una qualifica di executive leader siete comunque al 10% nelle vostre strutture ci sono dei team leader che sono al 6%. Voi su queste strutture avrete un 4%. Quindi fate 10-6, fa 4. Un 4% di guadagno comunque diretto su tutti i fatturati della vostra struttura, delle vostre strutture. E questo è un altro bonus spettacolare che si cumula con il bonus della forma di guadagno comunque sulla struttura passiva. Nel 70% di tanti piani marketing anche l'80% che ho conosciuto vanno avanti solo con questo bonus di guadagno. E quindi pensate, noi abbiamo questo più questo. Quindi si cumulano e questo fa sì che questo piano marketing è veramente, realmente esclusivo. Un'altra cosa da non sottovalutare ma veramente che gli dobbiamo dare una forza unica è il periodo di carenza. Cosa significa? Che voi una volta che raggiungerete una determinata qualifica che può essere magari l'executive leader che si raggiunge con 25.000 punti che corrispondono all'incirca a 6.000 euro di fatturato, se voi raggiungerete questa qualifica e magari il mese dopo non riuscite a raggiungere questi criteri di punteggio, 25.000 punti, l'azienda vi dà due mesi di carenza, quindi vi dà due mesi comunque di mantenimento qualifica anche se voi non la raggiungerete. E questo fa sì che veramente vi renderete conto che questa azienda è fantastica perché voi avete raggiunto magari per un mese l'executive leader, il secondo e il terzo mese non lo raggiungete ma l'azienda vi pagherà come se siete anche in quel mese un executive leader. Quindi vi mantiene la vostra qualifica per due mesi consecutivi anche se voi non raggiungerete questi tipi di fatturato. Stessa cosa per il regional manager, come vedete, più aumentiamo le qualifiche più l'azienda ci dà mesi a disposizione di mantenimento qualifica e così via con tutte le altre qualifiche. Questa è una cosa veramente eccezionale che rende il piano marketing di Duolife unico ed inimitabile. Sesta forma di guadagno. Allora, prima vi ho detto una cosa molto importante che questa è un'azienda che paga tantissimo nelle qualifiche alte ma che vi riconosce dei bonus veramente eccezionali già nelle primissime qualifiche. Vi dico una cosa molto importante. Nel nostro team il nostro obiettivo è quello di portare già nel primo mese di attività quante più persone possibili a raggiungere una qualifica che si chiama team leader. Eccola qui. E pensate che questa è una qualifica che all'incirca si raggiunge, se parliamo in euro, con 2300-2400 euro di fatturato. E quindi in tutti i piani marketing che ho conosciuto in questi tipi di fatturati che sono realmente molto bassi alla fine si guadagna magari quelle 120, 150, 160 euro in tutti i piani marketing che ho conosciuto. Adesso nella presentazione quando andrò avanti vi farò rendere conto che una qualifica di team leader già nel raggiungimento magari che si può raggiungere in 30 giorni può raggiungere dei guadagni veramente impressionanti ed altissimi che adesso andremo a vedere. Allora il primo obiettivo è quello di raggiungere in questo piano marketing il group leader gold. Come si raggiunge il group leader gold? Condividendo comunque il progetto nei primi 30 giorni con tre persone che fanno comunque un primo ordine di almeno di 500 punti che corrispondono a 120 euro. Cosa accade? Che facendo questa azione voi andrete a chiudere il group leader gold ed andrete a percepire il 2% del fatturato globale dei punti dell'azienda che è un bonus che noi abbiamo fatto una stima pessimistica che diciamo è all'incirca di 83 euro e 25. Questo 2% ovviamente è un bonus una tantum quindi una volta che avete chiuso questa qualifica iscrivendo tre persone l'azienda vi riconosce questo bonus una volta sola. Però ricordatevi anche che avete comunque il bonus primo ordine quindi se voi avete iscritto tre persone avrete guadagnato 25 euro per tre quindi 25 su questa persona 25 su quest'altra persona e 25 su quest'altra persona quindi sono già 75 euro più le famose 80 euro del 2% del fatturato globale quindi già starete comunque guadagnando 150 160 euro all'incirca solo per aver condiviso il progetto con tre persone solo su due bonus avrete guadagnato già all'incirca 160 euro e questo è spettacolare perché già fin da subito arriverete a dei buonissimi guadagni quindi facciamo che nei primi 30 giorni avrete raggiunto queste tre persone quindi avrete guadagnato già 160 euro dai calcoli che comunque ci siamo fatti adesso e poi una volta sbloccato questo bonus ne arriva un altro eccezionale che è quello del group leader gold premio produttore cosa accade? che una volta che avrete raggiunto quel tipo di qualifica quel tipo di qualifica se aiuterete una di queste tre persone o altre persone con cui condividerete il progetto a sponsorizzare nei primi 30 giorni tre persone sempre con il concetto dei 500 punti loro saranno contenti perché raggiungeranno quel famoso 2% del fatturato del fatturato globale dei punti dell'azienda come l'avete comunque raggiunto voi ma voi sarete ancora più incontenti perché l'azienda vi riconoscerà a voi se aiuterete queste persone e mi ripeto nei primi 30 giorni a sponsorizzare tre persone con 500 punti l'azienda vi riconoscerà l'1% del fatturato globale dei punti dell'azienda che è un bonus di 125 euro quindi facciamo un piccolo calcolo se voi avete fatto questa azione avete guadagnato 25 per 3 sul bonus primo ordine più 83 euro se queste persone se almeno una facciamo un esempio un dato pessimistico raggiungere questo questo bonus voi avrete guadagnato ulteriori 125 euro e non è cosa da poco non è cosa da poco perché per ogni persona che sponsorizzerete che sponsorizzerà a sua volta entro 30 giorni 3 persone voi guadagnerete l'1% sempre sempre per ogni persona che sponsorizzerà 3 persone nell'arco di 30 giorni e questo fa sì che solo con questo bonus potrete guadagnare delle cifre altissime ottava forma di guadagno team leader il premio allora una volta che raggiungerete vi ricordate che vi ho detto il team leader raggiungerete il team leader voi con 8000 punti di struttura guadagnerete ogni qualvolta che confermerete questa qualifica da team leader il 2% del fatturato globale dei punti dell'azienda che è un bonus all'incirca di 125 euro questo ogni qualvolta che raggiungerete comunque la qualifica del team leader nella fine di questa presentazione vi farò una proiezione di quanto può guadagnare un team leader che raggiunge questa qualifica in 30 giorni e vi posso dire che anche chi dedica magari un'ora o due ore al giorno a questa attività raggiungere questo tipo di fatturato è fattibilissimo da tutti e proprio per questo sono innamorato di questo piano marketing perché già nei primissimi giorni di vostra attività potrete raggiungere dei guadagni altissimi non a forma di guadagno raggiungendo la qualifica di executive leader che sono 25.000 punti che sono all'incirca 5.000-6.000 massimo 6.500 euro di fatturato guadagnere del 2% sul fatturato un ulteriore 2% del fatturato globale dell'azienda ed è un bonus ulteriore di 250 euro decima forma di guadagno provvigione compensativa di manager questo è un bonus che non voglio dilungarmi su questa sessione che sicuramente vi spiegherà comunque la persona che vi ha fatto vedere questo video in maniera più approfondita però è un bonus posso dirvi eccezionale che vi dà la possibilità anche diciamo sulle persone che vi raggiungeranno come qualifica o che anche vi supereranno di guadagnare una percentuale all'infinito sui fatturati di questa persona privilegi ottimo questo è un'altra un'altra diciamo un altro bonus dell'azienda che vi posso dire che mi ha fatto veramente innamorare perché in tutti i piani marketing che ho conosciuto avere dei privilegi viaggi devi sempre raggiungere delle qualifiche altissime invece qui già da regional manager che questa qualifica qui ritorno un attimo indietro con le slide 50.000 punti che corrispondono a 12.000 euro di fatturato su per giù avrete un viaggio pagato all'anno in una località a scelta dell'azienda ma sono tutte località pazzesche bellissime all'anno pagato dall'azienda quindi raggiungendo una qualifica veramente raggiungibilissima da tutti come regional manager quindi avrete un viaggio all'anno dall'azienda dodicesima forma di guadagno qui le persone che sono esperte di questo settore rimarranno veramente a bocca aperta perché raggiungendo determinate qualifiche con degli step comunque diciamo degli step a livello comunque anche di tempo di tempistica potrete raggiungere guadagni eccezionali pensate solo con questo bonus la dodicesima forma di guadagno potrete guadagnare fino a 126.000 euro solo con questo bonus allora raggiungendo il team leader in 30 giorni avrete un guadagno di 375 euro di bonus extra dall'azienda raggiungendo l'executive leader che sono come vi avevo già detto 25.000 punti in 60 giorni e qui tantissime persone lo stanno raggiungendo si guadagna 750 un bonus extra di 750 euro regional manager 2.000 euro e così via come vedete tutte le qualifiche avrete la possibilità di avere un check un check extra di guadagno diretto da parte dell'azienda tredicesima forma di guadagno provvigioni di rendita l'azienda vi dà in base a delle qualifiche che raggiungerete un ulteriore 5% del fatturato globale dei punti dell'azienda quindi da qui capirete proprio che l'azienda ha puntato veramente al meglio per darvi tutte le diciamo forme di guadagno giuste per portarvi a dei guadagni veramente eccezionali quattordicesima forma di guadagno matching bonus pensate già raggiungendo una qualifica di direttore da direttore comunque a qualifica ancora più alta avrete un matching bonus su tutti i direttori o presidenti che usciranno nel vostro team fino al settimo livello sui loro guadagni mi spiego meglio se voi avrete in una vostra struttura un direttore o un presidente che uscirà nel vostro team voi guadagnerete un 30% sul proprio assegno quindi facciamo un piccolo esempio se lui guadagnerà questo direttore o presidente 10.000 euro voi avrete un guadagno del 30% su quei 10.000 euro ovviamente non toglierete nulla a quella persona perché quella persona guadagnerà sempre 10.000 euro ma l'azienda su quei 10.000 euro di guadagno di quella persona riconoscerà una royalty pari al 30% ma non è finita qui perché non avrete un guadagno diretto di questo bonus solo su un livello ma fino a 7 livelli di tutti i direttori e presidenti che usciranno nel vostro team quindi nel secondo livello magari usciranno altri presidenti o direttori e voi guadagnerete il 15% sul loro assegno sul terzo livello il 10% sul quarto livello il 7,5 sul quinto livello il 2,5 sul sesto livello il 2,5 e sul settimo livello che sono veramente tantissime persone il 2,5 questo è un bonus che quando step by step nei mesi o anche negli anni cresceremo sempre di più di qualifica sarà un bonus che farà veramente aumentare in maniera vertiginosa i nostri guadagni bonus ammiraglia auto di proprietà quindi questa è la quindicesima forma di guadagno e quindi questo è un altro bonus che ci farà fare dei numeri nel mercato italiano pazzesco perché questa azienda già raggiungendo la qualifica neanche una qualifica perché raggiungendo 30.000 punti di fatturato quindi un fatturato ancora più basso vi ricordate che vi ho detto che il regional manager sono all'incirca 12.000 euro di fatturato 30.000 punti sono ancora più bassi come fatturato quindi sono all'incirca 7.000 euro di fatturato pensate che con 7.000 euro di fatturato di gruppo e qui chi è all'ascolto magari persone esperte di network rimarranno veramente a bocca aperta perché con 7.000 euro di fatturato avrete la possibilità o se avete una macchina di proprietà quindi avete una macchina di proprietà che avete acquistato da poco che ha un valore almeno di mercato di 30.000 euro e da fino a tre anni d'età quindi meno comunque di diciamo di tre anni l'azienda vi riconoscerà il 10% vi pagherà ogni qualvolta che avete comunque fatturato di 30.000 punti di 7.000 euro di fatturato di gruppo vi riconoscerà il 10% del valore della vostra macchina quindi se la macchina ha un valore di mercato di 30.000 euro l'azienda ogni mese vi darà un bonus extra a tutti quelli che abbiamo visto di 300 euro oppure la soluzione che a nostro avviso è la migliore avrete un bonus a Miraglia e avrete un'auto in renting da parte comunque dell'azienda quindi con 30.000 punti confermati per due mesi avrete la possibilità di prendere subito ed immediatamente una macchina che può essere o un Jaguar o un Mercedes pensate e questo vi fa capire la potenzialità dell'azienda 2Life la serietà che lo sponsor ufficiale dell'azienda 2Life è Mercedes e quindi fatevi questa domanda Mercedes azienda tedesca azienda importantissima metterebbe il proprio marchio a favore di un'azienda che non è valida assolutamente no perché soprattutto Mercedes ma le grandi aziende hanno una totale attenzione sotto questo aspetto e quindi qui vi fa capire che l'azienda 2Life è un'azienda seria e fortissima e che avremo la possibilità di farla crescere nel mercato italiano perché in questo momento siamo i primi dei primi io ho finito le 15 forme di guadagno dell'azienda ma adesso vi voglio far notare una cosa il team leader allora il team leader raggiungendolo in 30 giorni vi dà la possibilità adesso vi faccio dei calcoli alla mano di guadagnare già nei primi 30 giorni delle cifre altissime perché ritorniamo in questo concetto qui ok allora la prima qualifica del group leader gold vediamo 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 la troviamo eccola qui allora voi inizierete la vostra carriera e questa è una strategia che vi metteremo in atto noi e vi supporteremo al meglio perché il nostro obiettivo è quello di far uscire nei primi 30 giorni quanti più team leader possibili che potranno poi percepire i guadagni che adesso vi dirò allora una volta che voi avete scritto tre persone avrete il guadagno diretto sul loro primo acquisto quindi come abbiamo detto prima 25 per 3 25 per 3 quindi guadagnerete 75 euro più il 2% del fatturato globale grazie al golden group leader sono 83 euro quindi arriverete a 158 euro ok poi se voi raggiungerete il team leader almeno nelle vostre prime tre persone ci sarà almeno una persona che raggiungerà il gold group leader e voi andrete a percepire l'1% del fatturato comunque dei punti globali dei punti dell'azienda quindi saranno ulteriori 125 euro raggiungendo il team leader avrete come vi abbiamo detto nel bonus e questo non nei primi 30 giorni ma lo avrete sempre il 2% del fatturato comunque globale e sono ulteriori 125 euro quindi siamo a 408 euro ok poi come per magia raggiungendo il team leader per i 30 giorni avrete il bonus per la promozione quindi ulteriori 375 euro 783 euro di guadagno comunque diretto senza contabilizzare la vostra rendita passiva degli 8000 punti quindi tra la rendita passiva e le provisioni di carriera comunque crescenti che va dal sell 26 facciamo un calcolo pessimistico che guadagnerete ulteriori magari 160 euro quindi cosa accade? accade che nei primi 30 giorni raggiungendo una qualifica di team leader dove vi supporteremo noi in primis avrete un guadagno di 943 euro e chi conosce questo settore bene si dice da sempre che il fuoco si accende da sotto quindi se tu riesci a portare quante più persone possibili a raggiungere comunque dei guadagni ottimali grazie a questo piano marketing vi siete resi conto che già dalle prime qualifiche guadagnare quasi 1000 euro significa rendere felici tantissime persone quando le persone sono felici guadagnano la vostra attività avrà una crescita impressionante quindi io spero che con questa webinar che questa presentazione del piano marketing in maniera molto molto veloce è stata di vostro gradimento sicuramente ci vedremo nelle prossime sessioni webinar ma se ancora non siete iscritti nel business di Duolife vi do un piccolo consiglio iniziate fin da subito fatevi dare subito un supporto dalla persona che vi ha presentato questo progetto perché nei prossimi mesi l'azienda Duolife diventerà una delle aziende più performanti nel paese italiano ed europeo grazie a tutti